Come senza alcun dubbio vi ricorderete, perché insomma parliamo di calcio e quindi è ovvio che i periodi più catalizzanti del mondo del calcio poi rimangono impressi, c'è stato un paio di settimane, non un paio di settimane fa, ma un paio di settimane qualche mese fa, forse un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, nel quale il discorso che andava per la maggiore era relativo alla Juventus, cioè la Juventus, l'inchiesta Prisma, qual è il problema, da che parte si va, e poi tutto si è concluso con la bellezza di 15 punti di penalizzazione, cioè una cifra gigantesca, data, combinata alla Juventus, che li ha surclassati alla settima, in realtà alla decima, adesso alla settima posizione, e ora si stanno giocando in questo momento in cui c'è una rincorsa folle verso la Champions, difficile verso l'Europa, fattibile, sicuramente probabile, almeno verso la Conference, il settimo posto, la Juventus si sta giocando una rincorsa, una remontata, però non ne abbiamo più parlato per un mesetto, perché dopo i 15 punti di penalizzazione, effettivamente la Juventus non ha più dato spunti di riflessione, se non qualche piccola, magari che ne so, un giornalista che sparava a zero, un altro che diceva qualcosa a difesa della Juventus, un altro che invece andava contro la Juventus, qualche curiosità, nessuno di effettivamente, come posso dire, rilevante, si era più espresso sulla questione, perché poi la questione va portata all'attenzione, perché la Juventus in questo momento è una squadra con la quale giocarsi il piazzamento Conference, però parliamoci chiaro, se la Juventus dovesse riottenere 15 punti di penalizzazione, e adesso ne parliamo, ma prima voi iscrivetevi al canale se non l'avete fatto in questo momento, se non siete iscritti, tanto a voi non vi costa nulla, vi basta iscrivervi, se dovesse riotare questi 15 punti, cambierebbe tutta la dinamica della Serie A, ma è per questo che vi parlavo di campionato falsato, perché se tu dal giorno alla notte dai 15 punti alla Juventus, lo falsi alla Juventus, è che sicuramente avrà perso dei punti per via della penalizzazione, e altri ne avrà conquistati per via della spinta del sentirsi sul classale dopo la penalizzazione, ma falsi anche il campionato di tutte le altre, perché la Roma, la Lazio, l'Atalanta, che magari sognano di arrivare in Champions, gli togli la Juve da davanti, quindi magari a turno le fai arrivare quarte, e poi gli ripiazzi la Juve, il Bologna, se la Juventus riprende 15 punti di penalizzazione, se lo dimentica completamente il settimo posto, perché lì c'è un divario gigantesco, e invece oggi il Bologna sogna il settimo posto, cioè dare questi 15 punti di penalizzazione alla Juventus, in questo momento di punto in bianco, però aspettando, perché poi qual è stata la disamina totale, è stata tipo, in questo momento la Juventus, secondo noi, deve essere penalizzata di 15 punti, e intanto glieli diamo, però non possono essere accorciati, o vengono tolti completamente, o vengono tenuti, punto, non possono né salire leggermente né scendere leggermente, o tutto o niente, ok? Ma voi nel frattempo, con o tutto o niente gliele avete tolti, e questa per me, già di per sé, l'ho detto a più riprese, è una follia, nel senso, io sono assolutamente pro toglierli, se effettivamente hanno fatto qualcosa, però toglierli dal momento in cui sei sicuro di toglierglieli, e non che glieli togli intanto e poi valutamo, ma detto questo, però, bisogna valutare anche questa cosa, perché? Perché sicuramente la Juventus non sta vivendo un momento positivo, appunto a livello di classifica, è settima proprio per questa situazione qua, sarebbe però seconda, ve l'ho già detto, e in Europa League, nel frattempo, fa un percorso, perché la Juventus sa che è difficile, se le altre corrono, arrivare in Europa League mediante il campionato, ma può vincere la Coppa Italia per arrivarci mediante la Coppa Italia, ma può vincere l'Europa League per arrivare in Champions, che sembra praticamente impossibile arrivarci mediante il campionato, visto che le giornate diventano sempre meno, ma può arrivarci, può arrivarci grazie all'Europa League, cioè quindi queste due competizioni per i bianconeri saranno due Champions League da giocare con la testa, una varrà uno scudetto e una varrà una Champions League, quindi saranno veramente da giocare con la testa. Nel frattempo, dopo aver superato i playoff, la Juventus becca il Friburgo, il direttore sportivo del Friburgo è Jochen Sayer e ha parlato un pochino della Juventus, ne ha parlato, lo ha riportato la Gazzetta dello Sport e nonostante abbia parlato della Juventus sotto il punto di vista tecnico principalmente, dopo si è lasciato anche andare a qualche analisi un po' particolare riguardante appunto la situazione punti di penalizzazione dei bianconeri, che in qualche modo ci interessa. Infatti lui dice che la Juventus, senza i 15 punti meno, sarebbe seconda in campionato e non dice il falso, dice la verità. Quindi è un top team, ma questo lo sapevamo benissimo, cioè secondo me poi insomma la palla è rotonda, quindi la Juve può anche uscire col Friburgo, come poteva uscire col Nantes, visto che al ritorno poi ha rotto tutto lo che poteva rompergli, però all'andata è finita 1-1 in casa della Juve, cioè quindi insomma il Nantes aveva fatto la partita che doveva fare e sicuramente la Juventus non poteva dirsi contenta, cioè questa è una cosa abbastanza chiara. Detto questo però per me è più sfortunato il Friburgo che prende la Juve rispetto che la Juve a prendere il Friburgo. Per la Juve il Friburgo è un outsider da non sottovalutare perché sarebbe un errore che però deve battere il Friburgo, vede la Juventus a mio avviso come la favorita insieme all'Arsenal per vincere l'Europa League, poi ci sono le altre perché le altre ci sono dal Siviglia alla Roma passando per diverse altre compagini come può essere il Betis a Siviglia o la Real Sociedad, però comunque, però comunque Juve e Arsenal sono le due favorite a mio avviso per l'Europa League e quindi lui dice è un top team e questo lo sapevamo già, di solito sono una squadra da Champions League quindi per noi è senz'altro un grande impegno, non conosco i dettagli ma se guardo la classifica e i 15 punti in meno in questo momento sarebbero secondi, lo ripeto, e fino a qua ci siamo. Quello dice tutto, anzi questo dice tutto e penso che il caso non sia ancora stato risolto o chiuso e fino a qua voi direte, vabbè sì che ma questo no? Che è il direttore sportivo del Friburgo, che noi de Friburghese ci avevamo solo grifo da un lato, ma che cazzo ne sa della Juve? E voi fareste anche bene a dirlo? Se non fosse che lui dice inoltre ho appena parlato, attenzione, con un collega della Juventus e fa il nome di Pessotto, che comunque conosce l'ambiente della Juventus e dice è ottimista che i punti verranno restituiti, cioè quindi lui pensa che i punti verranno restituiti, pensa insomma è ottimista, quindi diciamo che pensa che i punti verranno restituiti e poi aggiunge ovviamente non è una situazione piacevole per loro. Ora noi oggi non sappiamo nulla di questa situazione, però questa cosa che il direttore sportivo del Friburgo si lascia scappare è abbastanza pesante, perché? Perché Pessotto ripeto fa parte dell'ambiente bianconero, in quanto facente parte dell'ambiente bianconero, a mio avviso se è positivo, se è ottimista che i punti verranno restituiti, è chiaro come sembra, almeno a me, che qualcosa sappia, cioè io nel senso, se lo dico io regà, io sono youtuber, c'è la maglietta de Bart Simpson che fa il segno del VAR, cioè quindi nel senso per me ha poco senso, per me ha poco senso, ma se invece lo va a dire una persona che è rilevante nell'ambiente Juve, per me vuol dire che qualcosina, non dico che sappia già tutto, ma che qualcosina probabilmente sa, che è a conoscenza di qualcosa. Ora detto questo però, fatta tutta stamantrina, dove servirebbe se la Juventus effettivamente riprendesse i 15 punti di penalizzazione e a questo punto, lasciatemi dire, che entra in gioco la classifica di Serie A, perché la classifica di Serie A vedrebbe, a quel punto, una corsa sicuramente ricca, perché poi a me mi fa ridere che la gente viene a dirmi, a basic ma tu da romanista devi ringraziare il Dio che hanno dato i 15 punti di penalizzazione alla Juventus, perché senza i 15 punti tu non ti giocheresti la Champions, ma ragazzi io sono lì, sono lì più o meno, sono lì, tra Inter, Milan, la Juve se gli ridano i 15 punti, cioè quindi personalmente credo di sì, credo che mi rigiocherei comunque, ma significherebbe scalare tutta la classifica, in questo caso Atalanta, Lazio, Roma rischierebbero tutte, anche Milan e Inter vista poi la classifica, tra la Conference e l'Europa League, andando poi due, tre, tre, perché comunque la Juventus non è che arriverebbe a 100 punti, insomma la Juventus non sarebbe nemmeno vicina al Napoli, ma minimamente, però rimescolerebbe le carte in gioco. Io vedo, ma com'è giusto che sia, perché a un certo punto poi uno si fa i calcoli, mancano 15 giornate nemmeno, quindi è giusto farsi i calcoli, però vedo che la gente parla della Juventus oggi come se effettivamente i bianconeri avessero già ottenuti 15 punti ufficiali, ma regà non è così, eh? Cioè fate attenzione perché è un attimo, è un attimo che ridanno i 15 punti alla Juventus e poi tocca fare la rincorsa a scalare tutti, o comunque che si aggiunge una squadra nel calderone. E io so certo che sicuramente la Juventus può far bene anche con i punti di penalizzazione, ma senza punti gli arriva una scarica di adrenalina addosso, ma una scarica talmente tanto forte e potente, è che io credo che alla fine loro in Champions penso ci arrivano con le ciabatte, ci arrivano in ciabatte, ci arrivano con le crocche se dice Roma, cioè questa per me è una cosa abbastanza lampante e palese, cioè quindi facciamo attenzione a questo particolare, che intanto ce lo dice il direttore sportivo del Friburgo che ha parlato con Pessotto, che per due soldi mio padre comprò, però non sorvoliamo su ste cose, famo attenzione.